Esemplare unico nel suo genere, il birillacchio, è un essere ignobile, dalle poche facoltà. Eccolo a esibirsi nella sua terribile performance. Vorrei vedere una nuova tecnicità. Abile magnanimo con chi gli si prostra, è terribile verso i nemici. Usa tecniche rivoltanti e schifosissime per abbattere ogni tipo di nemico. Ovviamente, come stiamo già vedendo, la prida, dopo numerosi e terribili attacchi, diventa astordita e incapace di ragionare. Ecco i danni che risultano sul corpo del povero essere, che, incapace di muoversi, viene poi inglobato dal birillacchio.